composta da art workers, lavoratrici e lavoratori dell'arte contemporanea. Ci siamo riunite in Aui, Art Workers Italia, un'associazione autonoma e apartitica, formata come reazione collettiva a condizioni lavorative inaccettabili, trascinate per decenni. La crisi, dovuta al Covid-19, ha semplicemente esasperato, fatto emergere condizioni strutturali assolutamente non sostenibili. Nel contesto della pandemia, le lavoratrici e i lavoratori delle arti contemporanee, che già operavano ai margini della sostenibilità, si sono trovate con la maggior parte dei lavori cancellati o eternamente rimandati, privi di qualsiasi rete di sicurezza. Gli indennizi del Governo, infatti, non hanno raggiunto la maggior parte di noi, perché il nostro lavoro è contraddistinto, come purtroppo molti nel settore della cultura, da modalità contrattuali atipiche e intermittenti, da una diffusa parcellizzazione e discontinuità nell'impiego, da salari poco al di sopra della soglia di povertà, oltre a intollerabili percentuali di lavoro sommerso e forme di retribuzione alternative al denaro. Questo, insieme alla mancanza di riconoscimento civile e politico e di enti di tutela specifici, ci ha spinto ad unirci per cambiare le condizioni di lavoro nel mondo dell'arte contemporanea e nella cultura. a partire da ora. Oggi siamo in piazza, in coordinamento transcategoriale, a fianco delle altre realtà del lavoro culturale, precarie in Italia e non solo. Oltre a unirci alle rivendicazioni già presentate, chiediamo per il settore dell'arte contemporanea la definizione di forme di sostegno economico congrue con la gravità della situazione emergenziale, sotto forma di contributi statali alla produzione e alla ricerca artistica e sostegno al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori. Una riforma strutturale del settore per il riconoscimento della specificità delle professioni. La regolamentazione dei rapporti di lavoro, la redistribuzione delle risorse, tutele e continuità di reddito. La costituzione di un fondo per artiste e artisti visivi, eventualmente anche attraverso l'implementazione e la valorizzazione del già esistente fondo per artisti dell'Inps. La revisione dei bandi proposti dal MIBA per rendere l'accesso ai finanziamenti più trasparente e aderente ai reali processi di produzione culturale, in grado di garantire una sostenibilità pluriennale e la subordinazione dei finanziamenti all'equa remunerazione di artiste e professioniste coinvolte nel progetto. Non possiamo e non vogliamo prescindere dalla relazione solidale con tutti i lavoratori e lavoratrici sottopagate e sfruttate. Lottiamo per un cambiamento profondo, verso un orizzonte egualitario, per tutte le soggettività marginalizzate, il rapporto al genere, all'etnia, alla classe sociale, alla disabilità, all'orientamento sessuale, alla religione, all'età, alla nazionalità. Non può esistere alcuna ripartenza che non riconosca il lavoro culturale, non può esistere alcuna ripartenza che non segua principi di inclusività e sostenibilità. Grazie.